salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di iniziare voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche voglio anche ricordarti di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti ma adesso non perdiamo altro tempo cominciamo il primo filmato è stato ripreso da un uomo mentre passava davanti a un edificio abbandonato l'uomo nota qualcosa di strano all'interno dell'edificio e decide di filmarlo ciò che viene ripreso è davvero strano e allo stesso tempo inquietante comunque andiamo a guardare questo documento a Grazie a tutti. 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 Un ragazzo entra in una struttura abbandonata situata negli Stati Uniti. Una volta entrato fa un incontro davvero spaventoso. Uno strano essere tenta di aggradire il povero ragazzo che decide di fuggire via immediatamente. Ciò che viene filmato mette davvero i brividi. Una telecamera di sicurezza installata in un ospedale in un reparto di pediatria riprende alcuni giocattoli mentre vengono mossi da una forza invisibile. Il prossimo video non ha nulla a che fare con spiriti o demoni. Ma è qualcosa che io trovo davvero straordinario. Sembra che un uomo sia riuscito a filmare un vero e proprio Bigfoot. Una specie di scimmia gigante che abiterebbe i boschi degli Stati Uniti d'America. Il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare questo documento. Il prossimo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza installata al di fuori di una casa. Il video mostra una strana creatura che sta correndo. Ad un certo punto sembra che quell'essere cambii forma trasformandosi da animale a essere umano. Il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare questo documento. E anche per oggi è tutto ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti di vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao!